... Grazie a tutti. 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 Buonanotte, ho vinto. Buonanotte, ho vinto. Buonanotte. 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 il figlio di Cappellaro non è stato un po' di Bambini ma anche se si stava a Bambini il mio figlio e il mio figlio è stato un figlio e ci sono un figlio che ci sono un figlio di Bambini e l'anima ma sono un figlio Agostino! Che fa? Che fa? Uomo grande! Uomo grande! Vai a vedere! Sei così, sei la Gabriele! Vi prendila questa mentre ce la manco, eh! Nooo! Pianesimo! 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 Il pecco! No, quasi oggi con il pecco pezzo! Ma chi c'ha venuto? Lo stai riprendendo? Eh? Mi state riprendendo? Allora, fa commenta Agostino! Che c'è? Che c'è il bianco? Ah! Che c'è il bianco? Eh ragazzi, andiamo! No! Oh! Io vado a dire quella sul canotto se ci vediamo oggi pomeriggio! Pianesimo! Eh! Oh Andrea! Andrea! Andiamo a dire se vediamo oggi pomeriggio? Sì! C'è sul canotto? Eh, io andavo a dire se vediamo oggi pomeriggio! Ah no, andiamo a lei! Andiamo a lei! Sì! Allora! Bravo! Aspetta! No dai! No dai! No dai! Adesso non dai dai! Sì! Un saluto! E molto più? Capite? Dai! Scusate! Scusate, non èlleramente nao! Se deve essere r belli e per un sogno vé, ci lo mettiamo! Grazie a tutti.